Il corpo umano, 37 gradi centigradi. Il tuo naso diventa più caldo quando dici bugie. L'improvviso afflusso di sangue provoca prurito. Ipotermia, 35 gradi centigradi. Al di sotto di questa temperatura il corpo inizia ad andare in crisi. Media del luogo abitato più caldo, 34 gradi centigradi. Dall'Hol, in Etiopia, è circondata da saline, rocce vulcaniche e sorgenti sulfuree. Cioccolato sciolto, 33 gradi centigradi. Servono 400 chicchi di cacao per produrre 0,5 kg di cioccolata. Temperatura corporea dell'echidna, 32 gradi centigradi. Nessun altro mammifero ha una temperatura corporea così bassa. Tratto di mare più caldo, 31 gradi centigradi. Il Mar Rosso deve il suo nome ad un'alga che spesso colora le acque di toni rosso-marroni. Temperatura più alta registrata su Marte, 30 gradi centigradi. A volte fa più caldo su Marte che in certe zone della Terra. Temperatura media nazionale più calda, 28 gradi centigradi. Il Burkina Faso è uno stato africano non lontano dal deserto del Sahara. Temperatura critica per il corpo umano, 27 gradi centigradi. A questa temperatura l'organismo entra in coma. Temperatura ideale di un acquario, 25 gradi centigradi. L'acqua tiepida contiene meno ossigeno dell'acqua fredda. A temperature diverse i pesci respireranno a fatica. Temperatura media annuale in India, 24 gradi centigradi. Entro il 2024 si stima che l'India sorpasserà la Cina come paese più popolato del mondo. Temperatura ambiente ideale, 22 gradi centigradi. Gli studi dimostrano che quando una stanza non è a temperature tra 21 e 25 gradi centigradi, si diventa meno concentrati e meno produttivi. Temperatura minima per il corpo umano, 21,7 gradi centigradi. Al di sotto di questa temperatura è impossibile continuare a vivere. Temperatura più alta registrata in Antartide, 21,1 gradi centigradi. In media la coltre di ghiaccio che ricopre il continente antartico è profonda, 1,6 chilometri. Doccia fredda, 20,5 gradi centigradi. Una doccia fredda stimola l'energia, il metabolismo e la circolazione. Temperatura all'equatore marziano, 20 gradi centigradi. Ormai gli scienziati sono certi che su Marte ci sia acqua liquida. È stato individuato un lago. Temperatura media terrestre, 15 gradi centigradi. Questo valore sarebbe di 10 gradi più freddo se non ci fosse l'atmosfera a trattenere il calore. Temperatura corporea più bassa di una persona ancora viva, 14 gradi centigradi. Nel 1999 una 29enne rimase intrappolata per 80 minuti nel ghiaccio. Il suo cuore si era fermato, ma i medici riuscirono a salvarla. Sottoterra, 13 gradi centigradi. Non importa dove ci si trovi e come sia il clima esterno, a 7 metri di profondità la temperatura è sempre costante. Iglu, 12 gradi centigradi. Può sembrare che un iglu sia solo un fragile rifugio temporaneo. In realtà può resistere anche a un uragano. Temperatura media annuale in Nuova Zelanda, 11 gradi centigradi. In qualsiasi punto ci si trovi in questo paese non ci si allontanerà mai per più di 130 chilometri dal mare. Temperatura media annuale USA, 9 gradi centigradi. Gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo dove vivono sia alligatori che coccodrilli. I primi hanno il muso affusolato, i secondi più appuntito. Fiume più freddo, 8 gradi centigradi. Si tratta della temperatura estiva del fiume Neretva. È uno dei fiumi più limpidi del mondo. Temperatura media annuale in Cina, 7 gradi centigradi. Di poco più piccola del Canada, la Cina è il terzo paese al mondo per dimensioni, ma ha un solo fuso orario. Frigorifero, 4 gradi centigradi. Segnati la data. Il 15 novembre è l'ideale per pulire e sbrinare il frigo. Oceano Pacifico, 3 gradi centigradi. Il nome di questo oceano è piuttosto ironico, visto che qui si scatelano i peggiori ulagari del pianeta. Fossa delle Marianne, 2 gradi centigradi. La più profonda fossa abissale sul pianeta. Solo tre persone sono scese fino sul fondo. Sulla Luna ce ne sono andate 12. Temperatura corporea dello squalo dell'agroellandia, 0,5 gradi centigradi. Come molti altri pesci, questi squali sono a sangue freddo, quindi non regolano la loro temperatura interna. Il metabolismo è così basso che questo squalo può vivere anche 400 anni. Punto di congelamento dell'acqua, 0 gradi centigradi. Si stima che quasi il 70% di tutta l'acqua dolce del mondo si è intrappolata nei ghiacciai. Mar glaciale artico, meno 2 gradi centigradi. L'oceano più freddo del pianeta arriva al massimo a temperature di poco sopra il punto di congelamento dell'acqua salata. Temperatura corporea dello scogliattolo artico, meno 3 gradi centigradi. Sono gli unici mammiferi la cui temperatura corporea può andare sotto zero. Notte nel deserto, meno 4 gradi centigradi. Le escursioni termiche tra notte e giorno nel deserto sono così trastiche a causa dell'assenza di umidità nell'aria. Temperatura media annuale in Canada, meno 5 gradi centigradi. Il Canada ha le temperature medie più fredde del mondo, persino più della Russia. E qui si trovano più laghi che in tutto il resto del mondo messo insieme. Ghiacciaia, meno 7 gradi centigradi. In Svezia c'è un hotel interamente fatto di ghiaccio, incluse le sedie e i letti. Viene ricostruito ad ogni inverno. Interno di un ghiacciaio, meno 8 gradi centigradi. Nell'ultima era glaciale i ghiacciai ricoprivano il 32% del pianeta. Tempesta di neve, meno 9 gradi centigradi. La neve non ha una temperatura minima, ma le tempeste di solito si formano intorno a 9 sotto zero. Temperatura più alta invernale in Antartide, meno 12 gradi centigradi. In Antartide c'è il 90% di tutta la neve della Terra. Se si sciogliesse, il livello dei mari si alzerebbe globalmente di 60 metri, quanto un palazzo di 20 piani. Il gelato perfetto, meno 15 gradi centigradi. In Sud America cresce una pianta chiamata pakai, che ha il sapore di un gelato alla vaniglia. Freezer, meno 18 gradi centigradi. A temperature come questa o più basse ancora, il cibo si conserva per sempre. Limite minimo per la vita terrestre, meno 20 gradi centigradi. Secondo gli scienziati, al di sotto di questa temperatura, nessun organismo vivente sarebbe più in grado di vivere o crescere. Record di freddo in Africa, meno 24 gradi centigradi. Venne registrato l'11 febbraio 1935 sulle montagne del Marocco. Estate al Polo Sud, meno 28 gradi centigradi. L'Antartide è il più grande deserto del mondo. Certe zone non hanno visto precipitazioni da 2 milioni di anni. Cima dell'Everest, meno 30 gradi centigradi. Se potessimo rovesciare l'Everest e gettarlo nella fossa delle Marianne, ci starebbe largo di un paio di chilometri. Limite operativo dei telefoni cellulari, meno 31 gradi centigradi. Le reazioni chimiche che fanno funzionare la batteria rallentano quando fa freddo. A questa temperatura non avvengono più e inoltre le tue dita congelerebbero. Satelliti di Marte, meno 40 gradi centigradi. La NASA sta progettando future stazioni spaziali su Phobos e Deimos per osservare meglio Marte. Inverno al Polo Nord, meno 40 gradi centigradi. Al Polo Nord non c'è terraferma, c'è solo la calotta di ghiaccio che ricopre il mar glaciale artico. Inverno nella città più fredda del mondo, meno 50 gradi centigradi. Oimiakon è il luogo più freddo del pianeta. Si trova nel nord-est della Russia e ha circa 500 abitanti. La frutta messa fuori congela all'istante. Esterno di un aereo in volo, meno 51 gradi centigradi. Quando si è in quota di crociera si vola circa il 7% della distanza tra la terra e lo spazio. Se si potesse salire fila su in automobile, servirebbe appena un'ora di viaggio. Inverno al Polo Sud, meno 60 gradi centigradi. Il Polo Sud è di gran lunga il più freddo dei due poli. Nell'entroterra c'è totale assenza di vita. Temperatura media su Marte, meno 63 gradi centigradi. Su Marte di giorno il cielo è rosso e al tramonto è azzurro. Limite di sopravvivenza, meno 70 gradi centigradi. La temperatura più bassa che un organismo vivente può sopportare. Tutti tranne i tardigradi, praticamente indistruttibili. Ghiaccio secco, meno 78 gradi centigradi. Il ghiaccio secco non può tornare allo stato liquido. Se si scioglie, diventa gas. Record di freddo sulla terra, meno 89 gradi centigradi. La temperatura venne registrata il 21 luglio 1983 nella stazione Vostok in Antartide. Record di freddo nell'atmosfera terrestre, meno 90 gradi centigradi. Quasi tutto l'ossigeno che respiriamo non arriva dalle piante di terraferma. ma dai cianobatteri dell'oceano. Temperatura minima possibile sulla terra, meno 98 gradi centigradi. In teoria è questa la temperatura minima possibile sul nostro pianeta, raggiungibile solo in Antartide di inverno, in condizioni di cielo sereno, scarsa umidità e assenza di vento. Temperatura su Giove, meno 145 gradi centigradi. Il pianeta più grande del sistema solare è più grande ancora di quanto immagini. La sua massa è due volte e mezza quella di tutti gli altri pianeti messi insieme. Lato in ombra della ISS, meno 157 gradi centigradi. La stazione spaziale internazionale completa un'orbita ogni 90 minuti. Significa che a bordo gli astronauti vedono sorgere il sole 15 o 16 volte al giorno. Record di freddo su Marte, meno 171 gradi centigradi. Sì, è freddissimo, ma potrebbe essere ancora peggio di così se non fosse per la sottile atmosfera marziana. Ganymede, meno 173 gradi centigradi. Uno dei 79 satelliti conosciuti di Giove è la luna più grande del sistema solare, più grande persino del pianeta Mercurio. Temperatura su Saturno, meno 178 gradi centigradi. Saturno è un gigante gassoso, quindi in acqua galleggerebbe. Mercurio di notte, meno 179 gradi centigradi. Mercurio è privo di atmosfera, quindi pur essendo il più vicino al sole non può trattenere il calore. Di notte quindi fa freddissimo. Lato oscuro della luna, meno 184 gradi centigradi. Da qualunque punto della Terra da si osservi la luna ci mostrerà sempre la stessa faccia. Azoto liquido, meno 196 gradi centigradi. L'azoto in natura esiste in forma gassosa e compone quasi l'80% della nostra atmosfera. È il quinto elemento più abbondante nell'universo. Temperatura su Nettuno, meno 200 gradi centigradi. Il pianeta più distante dal sole è tempestato dai venti più forti di tutto il sistema solare. Infuriano anche a 1900 chilometri orari, cioè quasi due volte la velocità del suono. Temperatura su Urano, meno 224 gradi centigradi. Urano è il pianeta più freddo del sistema solare, malgrado non sia quello più distante dalla nostra stella. Temperatura sul pianeta 9, meno 226 gradi centigradi. Si tratta di un pianeta ancora ipotetico, ma la cui presenza è confermata dai calcoli. Si trova al limite estremo del sistema solare. Record di freddo su Plutone, meno 233 gradi centigradi. Plutone è talmente lontano dal sole che da quando venne scoperto nel 1930 ancora non ha completato la sua orbita e non la completerà fino a 2178. Temperatura su Sedna, meno 240 gradi centigradi. Sedna è un pianeta nano scoperto nel 2003. È talmente lontano dal sole che impiega 10.500 anni terrestri per completare un'orbita. Vuoto cosmico, meno 270 gradi centigradi. Lo spazio è completamente gelido e silenzioso. La nebulosa boomerang, meno 272 gradi centigradi. Il luogo più freddo dell'universo conosciuto. Temperatura più bassa mai registrata, meno 273,14 gradi centigradi. Venne ottenuta artificialmente in laboratorio nel 2003. Zero assoluto, meno 273,15 gradi centigradi. Chiamata anche zero Kelvin. Secondo gli scienziati non può esistere nulla di più freddo di così. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.